Dal Vangelo secondo Giovanni Un saluto a tutti, sorelle e fratelli. I Vangeli Sinottici dedicano soltanto pochi versetti. Al racconto dell'Ultima Cena. L'Evangelista Giovanni dedica all'Ultima Cena ben cinque capitoli del suo Vangelo, praticamente un quarto della sua opera, e questi cinque capitoli contengono un lungo discorso che Gesù fa ai suoi discepoli. E' importante cogliere il genere letterario di questo discorso. La Bibbia ricorda gli ultimi discorsi pronunciati dai grandi personaggi, discorsi che vengono pronunciati al termine della loro vita. Giacobbe, per esempio, riunisce tutti i suoi figli là in Egitto e si rivolge a ognuno di loro per raccomandare come si devono comportare nella vita e promettere le benedizioni a ognuno. Anche Mosè, al termine della sua missione, fa un lungo discorso in cui riassume l'opera da lui compiuta e raccomanda al popolo la fedeltà al Signore. E così anche gli altri grandi personaggi, Giosuè, Samuele, anche negli Atti degli Apostoli, noi troviamo Paolo che a Mileto riunisce gli anziani di Efeso e presenta ciò che lui ha fatto nella sua vita, raccomanda di essere fedeli al Vangelo che lui ha annunciato. Ecco, questi discorsi sono importanti perché sono il testamento che questi personaggi lasciano al popolo. L'Evangelista Giovanni sceglie questo genere letterario per dare la massima importanza alle parole ultime che il Signore ci ha lasciato. Vanno lette queste parole come il suo testamento. Noi lo sappiamo quanto sono sacre le ultime parole di una persona che ci ha amato e che ci lascia. Beh, io ricordo che quando morì mio padre io non ero presente ma quando arrivai a casa la prima cosa che chiesi fu quali sono state le ultime parole di mio padre perché quelle sono sacre e nessun figlio oserebbe non compiere ciò che il padre ha chiesto come ultima domanda ai suoi figli. Ecco, l'Evangelista Giovanni vuole dare il massimo valore a queste parole e le colloca come il testamento di Gesù. Questo testamento non inizia subito con le parole del maestro ma si apre con una scena che è stata conservata soltanto da Giovanni e che deve aver lasciato allibiti, sconcertati, disceppoli la lavanda dei piedi. Prestiamo attenzione al modo solenne con cui viene introdotta questa scena. Prima della festa di Pasqua Gesù sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al padre avendo amato i suoi che erano nel mondo li amò sino alla fine. Durante la cena quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda figlio di Simone Iscariota di consegnarlo Gesù sapendo che il padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava si alzò da tavola. La scena della lavanda dei piedi che precede le parole testamento di Gesù che occupano cinque capitoli del Vangelo secondo Giovanni è una scena introdotta in un modo solennissimo dall'Evangelista. C'è anzitutto il richiamo alla sua ora all'ora di Gesù di quest'ora noi abbiamo già sentito parlare alle nozze di Cana e quando rispondendo alla madre Gesù dice non è giunta la mia ora. Nel Vangelo di Giovanni ci viene detto che proprio alcuni giorni prima della Pasqua Filippo e Andrea si sono presentati a Gesù per dirgli che c'erano alcuni greci che lo volevano incontrare e Gesù risponde ai discepoli adesso è giunta l'ora che il figlio dell'uomo sia glorificato. È arrivata l'ora della sua gloria. Noi quando sentiamo parlare di gloria pensiamo subito agli applausi ai trionfi ma quando Gesù parla dell'ora della sua gloria è il momento in cui finalmente potrà far splendere sul suo volto l'immagine del Dio amore che lui è venuto a presentare in questo mondo. Continua l'Evangelista in questa introduzione alla scena della lavanda dei piedi dicendo che dopo avere amato i suoi che erano nel mondo li amò sino alla fine. La vita di Gesù è riassunta quindi in un verbo il verbo amare. Tutta la vita di Gesù è stata amore e viene impiegato un verbo agappan che era pochissimo usato nella grecità classica forse una dozzina di volte invece nel Nuovo Testamento è impiegato ben 143 volte e indica l'amore di Dio che è l'amore incondizionato l'amore che non va verso chi può dare un contraccambio ma va per chi ha bisogno di essere amato e ama senza condizioni ama anche colui che è brutto cattivo perché non può far altro è ciò che fa è colui che vuole vedere felici che è felice vedendo che gli altri sono nella gioia questo è l'amore che Gesù è venuto a testimoniare ed è ciò che lui ha fatto per tutta la vita la vita di Gesù è riassunta in questo verbo ha amato i suoi e adesso è giunto il momento di amarli fino alla fine cioè fino al punto massimo oltre il quale è impossibile andare non si può andare oltre a una manifestazione di amore che è quella del dono della vita e durante una cena quando il diavolo aveva messo in cuore a Giuda Iscariota di consegnarlo prima di questa scena della lavanda dei piedi l'evangelista richiama anche la figura di Giuda e lo presenta come un diavolo diavolo è diaballo diabolos viene da questo verbo che significa mettere di traverso diavolo è chiunque si intrometti in un rapporto di amore questo rapporto di amore fra Dio e l'umanità può avere degli intralci e qualcuno che non accetta questo rapporto di amore costui è un diavolo e Giuda non ha capito la novità del volto di Dio o l'ha capita ma non l'ha voluta accogliere e allora ha consegnato Gesù alle autorità religiose proprio perché voleva perpetuare quella immagine che era quella della catechesi degli iscrivi e dei farisei e Giovanni ricorda di proposito la presenza di Giuda perché nella scena della lavanda dei piedi metterà il maestro in ginocchio davanti a chi non ha accettato questo volto nuovo di Dio questo rapporto nuovo con Dio e non ha accettato la proposta dell'uomo nuovo ma prima di entrare nella descrizione dettagliata che l'Evangelista ci fa di questa scena della lavanda dei piedi voglio fare una premessa che riguarda la posizione assunta a mensa dagli ebrei durante la celebrazione della cena pasquale non stavano seduti a tavola come noi siamo abituati a vedere nelle raffigurazioni e nei dipinti ma erano sdraiati il verbo impiegato da tutti gli evangelisti è anacheimai che significa essere sdraiato a tavola che cosa significava questo gesto significava che coloro che erano a mensa durante la celebrazione della cena pasquale si ritenevano persone libere dove avevano colto questo gesto gli ebrei l'avevano preso dai greci i quali a loro volta l'avevano preso dai persiani che già nel sesto secolo avanti Cristo quando celebravano una vittoria una grande festa non si sedevano a tavola ma si sdraiavano e dopo la la battaglia di platea quindi siamo nel quinto secolo nel tempo delle guerre persiane anche i greci avevano iniziato a comportarsi come i persiani si erano sdraiati a tavola poi i romani avevano recuperato questo gesto e quando poi i costumi si erano corrotti non soltanto gli uomini ma anche le donne si sdraiavano a tavola fra gli ebrei soltanto gli uomini si sdraiavano a tavola durante questa celebrazione della cena pasquale dobbiamo quindi immaginare il gesto della lavanda dei piedi tenendo presente il modo come erano sdraiati a tavola allora noi comprendiamo che per Gesù è stato abbastanza semplice fare il giro di tutti i suoi discepoli perché i piedi si trovavano nella posizione giusta per poter essere comodamente lavati Gesù poteva fare tutto il giro dei suoi discepoli e anche se vogliamo immaginare Gesù seduto a tavola non al centro della tavola seduto ma probabilmente proprio all'ultimo posto nell'angolo del triclinio vedremo anche che cosa fa Gesù adesso in questa introduzione della scena a un certo punto si alzerà da tavola e compirà quel gesto che noi su quale noi rifletteremo e continua questa solenne introduzione dell'Evangelista dicendo che Gesù sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani che era venuto da Dio e a Dio stava per ritornare Gesù è pienamente consapevole di aver portato a compimento la sua missione è venuto da Dio e adesso sta per tornare al Padre noi ai funerali certe volte sentiamo dire questo nostro fratello questa nostra sorella sono tornati al Padre non è propriamente corretto Gesù torna al Padre perché è venuto dal Padre noi andiamo al Padre perché è la prima volta che andiamo da Lui è diverso la nostra situazione rispetto a quella di Gesù lui è venuto da Dio e a Dio torna noi al termine di questa nostra vita terrena andiamo al Padre abbiamo ascoltato quindi questa introduzione solenne alla scena che adesso siamo invitati a contemplare ascoltiamo insieme il racconto Gesù si alzò da tavola depose le vesti prese un asciugamano e se lo cinse intorno alla vita poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto Abbiamo certamente notato che l'Evangelista descrive molto lentamente la scena della lavanda dei piedi pare che voglia sottolineare ogni particolare di ciò che è accaduto descrive la scena in ogni dettaglio perché vuole che il gesto compiuto da Gesù rimanga impresso per sempre nella mente dei discepoli L'introduzione a questa scena si concludeva dicendo che Gesù sapendo di essere venuto da Dio e che a Dio stava per ritornare come ci aspetteremmo noi che continuasse adesso il racconto Io credo che ci venga spontaneo di immaginare Gesù che prende il pane istituisce l'Eucarestia invita i discepoli a mangiare quel pane a bere quel calice invece l'Evangelista Giovanni unico fra gli evangelisti non ci racconta l'istituzione dell'Eucarestia e questo è molto strano perché questo evangelista ha dedicato ben un capitolo il sesto capitolo del suo Vangelo al pane di vita al pane eucaristico invece di parlarci dell'istituzione dell'Eucarestia ecco come continua il suo racconto dice che durante la cena Gesù si alzò da tavola e quando Gesù compie questo gesto di alzarsi da tavola deve essersi fatto silenzio nella sala perché nel racconto del gesto compiuto da Gesù si sente che i gesti si susseguono nella più grande sorpresa degli apostoli i quali non capiscono che cosa il maestro sta facendo a un certo punto Gesù si alza da tavola poi depone le vesti e questo è un gesto compiuto da Gesù che viene dimenticato nei dipinti e forse anche nelle spiegazioni che vengono date di questa scena della lavanda dei piedi invece è un gesto che viene richiamato dall'Evangelista perché è molto importante lo sappiamo come andavano vestiti al tempo di Gesù gli ebrei avevano il perizoma poi la tunica avevano il cinto su questa tunica e poi il mantello è importante in greco come si chiamavano questi abiti il mantello era toimation la tunica le vesti taimatia e poi il perizoma cosa ci dice l'Evangelista ci dice che Gesù si è tolto taimatia si è tolto le vesti non toimation il mantello che gli poteva dare fastidio mentre lavava i piedi ai discepoli no non si parla del mantello quello era già stato tolto si dice che si è tolto taimatia le vesti si è tolto la tunica e questo che cosa significa che è rimasto col perizoma bando ai pudori qui c'è un gesto estremamente significativo che deve avere sorpreso i discepoli i quali non hanno certamente capito che cosa il maestro stava facendo ma Gesù è rimasto col perizoma con la divisa dello schiavo ho messo sullo sfondo di proposito questa scultura perché ci mostra il vero Dio non è facile credere che in colui che è rimasto col perizoma con la divisa dello schiavo sia il nostro Dio noi continuiamo a immaginare Dio che è servito di fronte al quale ci dobbiamo inchinare invece qui ci troviamo di fronte al volto nuovo di Dio che si fa schiavo dell'uomo non è facile lasciarsi convertire a questa immagine di Dio perché è quello il nostro Dio restiamo anche noi un attimo in silenzio a guardare questo Dio che ha sconvolto la mentalità dei discepoli durante quell'ultima cena in quella nudità ci viene rivelato il vero volto di Dio su quella nudità adesso Gesù si metterà il grembiule quel grembiule che lui poi non si toglierà quando si rimetterà le vesti perché quella dello schiavo che si fa servo dell'uomo è l'immagine del nostro Dio una nudità rivestita di servizio questo è l'abito dello sposo noi ricordiamo come quando Gesù racconta quella parabola della festa di nozze e a un certo punto ce n'è uno che entra alla festa di nozze ma non ha l'abito sponsale noi ci chiediamo ma qual è l'abito sponsale al banchetto eucaristico quando noi ci accostiamo all'eucarestia c'è lo sposo che ci chiede se noi vogliamo unire la nostra vita alla sua e allora ci dobbiamo presentare alla festa di nozze con l'abito sponsale ma l'abito sponsale è quello che c'ha su lui e qual è l'abito che ha lo sposo quell'abito che anche la sposa deve mettersi è l'abito dello schiavo se noi non abbiamo l'abito del servo della disponibilità a donare anche la vita a servizio dei fratelli il nostro incontro sponsale con Cristo non è autentico non è vero e allora noi comprendiamo che quando uno non ha questo abito sponsale non entra nel banchetto di nozze è fuori e fuori da questa proposta di dono d'amore reciproco di scambio di amore c'è solo la competizione l'invidia la sopraffazione e questo è il mondo in cui c'è pianto estridore di denti il mondo vecchio non il mondo nuovo introdotto dal figlio di Dio da colui che riproduce l'immagine del padre del cielo che si fa servo dell'uomo poi dopo essersi tolto le vesti Gesù si riveste della divisa del servo il grembiule se lo cinge e notiamo la lentezza di questa descrizione che deve aver lasciato sorpresi e in silenzio i discepoli che non capivano cosa Gesù stesse facendo poi versa dell'acqua in un cattino e comincia a passare a lavare i piedi dei discepoli senza alcuna distinzione di chi è più grande chi è più piccolo no il servizio d'amore è uguale perché tutti sono ugualmente amabili per Dio e poi li asciuga con il grembiule di cui si è cinto il gesto di lavare i piedi che senso aveva per gli ebrei in primo luogo era un gesto tradizionale di accoglienza all'ospite sappiamo per esempio ci viene ricordato nel Nuovo Testamento nella prima lettera a Timoteo le vedove coloro che entravano in questa istituzione che c'era nella Chiesa Primitiva dovevano avere varie caratteristiche e fra queste c'era anche che avessero lavato i piedi ai santi cioè che si fossero messi a disposizione di coloro che avevano bisogno anche lavando i loro piedi era anche inteso come un gesto umiliante servile difatti ricordiamo il commento rabbinico al libro dell'Esodo in cui si diceva che lo schiavo ebreo non doveva assolutamente lavare i piedi al proprio padrone perché l'ebreo non è uno schiavo e quindi si deve rifiutare di lavare i piedi al suo padrone però non necessariamente era un gesto servile poteva anche essere un gesto che manifestava l'amore alla persona per esempio la sposa poteva manifestare il suo amore lavando i piedi al marito oppure i figli segno di riverenza nei confronti del padre gli potevano lavare i piedi e direi che tutti questi aspetti sono presenti nel gesto di Gesù Gesù è Dio che mostra tutto il suo amore anche se è necessario fare un gesto tra i più umilianti lo fa perché vuole rivelare il volto del padre del cielo ecco ora dopo questa scena che ci viene descritta così lentamente dall'evangelista viene presentata la reazione di Pietro ascoltiamo il racconto dell'evangelista venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse signore tu lavi i piedi a me rispose Gesù quello che io faccio tu ora non lo capisci lo capirai dopo gli disse Pietro tu non mi laverai i piedi in eterno gli rispose Gesù se non ti laverò non avrai parte con me gli disse Simon Pietro signore non solo i miei piedi ma anche le mani e il capo soggiunse Gesù chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro e voi siete puri ma non tutti sapeva infatti chi lo consegnava per questo disse non tutti siete puri abbiamo notato che la scena della lavanda dei piedi si svolge nel silenzio un silenzio di sorpresa dei discepoli che non capiscono che cosa Gesù stia facendo a un certo punto però questo silenzio viene rotto da Pietro quando Gesù arriva a lavare i suoi piedi reagisce anzitutto con una domanda signore tu lavi i piedi a me Pietro si rende conto che Gesù sta sconvolgendo l'ordine dei valori che è accettato come logico e normale da tutti qual è l'ordine logico e normale che il maestro il rabbino sia servito dai discepoli che si devono sentire onorati nel lavargli i piedi e qui invece Gesù sta rovesciando tutto e Pietro non accetta questo gesto di Gesù e non lo accetta perché ha cominciato a capire che Gesù sta riproducendo il volto del Signore è un il figlio di Dio riproduce il volto del Padre del Cielo e allora Pietro sente che tutta la catechesi che lui ha assimilato dai rabbini va a catafascio perché perché il Dio che lui ha sempre immaginato nel quale ha sempre creduto era il Dio servito dall'uomo e noi abbiamo visto nella scena precedente come si presenta invece il figlio di Dio colui che riproduce il volto del Padre del Cielo si è presentato in una maniera sconvolgente con l'abito dello schiavo c'è un Pietro che è presente in ognuno di noi è colui che di fronte al mistero di Dio che ama fino a inginocchiarsi davanti all'uomo si ribella non accetta che Dio diventi servo che si faccia schiavo dell'uomo perché perché noi siamo sempre convinti che sia l'uomo a dover servire Dio invece nel volto di Gesù noi vediamo brillare un Dio che è amore e che è servo dell'uomo e credo che quel Pietro che c'è dentro ognuno di noi voglia conservare un'immagine di Dio che non è quella del vero Dio è il Dio che il maligno ci vuole presentare perché se noi non cancelliamo questa immagine di Dio noi non siamo coinvolti nell'amore per questo padre del cielo qual'era l'immagine che Pietro aveva in mente beh è quella che è presentata da Mosè nel libro del Deuteronomio nel discorso che lui fa dice al popolo di Israele agli israeliti il Signore vostro Dio è il Dio degli dèi il Signore dei Signori è Dio grande forte e terribile beh presa la lettera e queste parole sono difficili da accostare a questa immagine di Dio che ci è presentata da Gesù che lava i piedi ai discepoli e così pure quello che viene detto nel libro di Esther Dio è l'altissimo il grandissimo oppure nel libro di Giuditta il Signore è grande e glorioso mirabile nella sua potenza invincibile ecco questo è il volto di Dio che ha in mente Pietro e credo che anche il Pietro che è presente in ognuno di noi sia aggrappato a questa immagine di Dio e non la voglia lasciare rimettere in questione dal gesto compiuto da Gesù e Gesù capisce questa difficoltà di cambiare l'immagine di Dio e difatti dice a Pietro quello che io faccio tu ora non riesci a capirlo lo capirai dopo lo capirai quando avrai visto fino alla fine dove giunge l'amore che io sono venuto a testimoniare l'amore del Padre del cielo sarà sul Calvario quando Gesù donerà la vita e non pretende quindi Gesù che Pietro capisca subito anche noi possiamo trovare questa difficoltà a lasciarci convertire a questa immagine di Dio autentica e Gesù capisce questa difficoltà e Pietro reagisce e dice Gesù no tu non mi laverai affatto i piedi in eterno Gesù risponde se io non ti laverò i piedi non avrai parte con me notiamo Gesù non dice a Pietro se tu non accetti di lavare i piedi e i fratelli questo lo dirà dopo e qui sta dicendo io ho bisogno di lavarti i piedi perché se io non scendo a quest'ultimo gradino tu non hai parte con me la salvezza il mondo nuovo può iniziare soltanto se io scendo all'ultimo gradino del servizio che sarà poi il dono della vita sul Calvario se Gesù non arriva a quest'ora in cui lui può manifestare tutta la gloria tutto l'amore del Padre del Cielo il mondo nuovo non inizia Gesù sta dicendo a Pietro lascia che io scenda al gradino ultimo quello del servo che lava i piedi al discepolo noi facciamo fatica a servire gli altri ma facciamo fatica anche a lasciarci servire per quale ragione perché il farci servire ci fa sentire non autosufficienti e questo ci umilia un po' noi siamo orgogliosi vorremmo bastare a noi stessi invece no Dio ci ha fatti bene ci ha fatti bisognosi del dono dell'altro senza l'incontro con l'altro e con i doni che l'altro ci può offrire noi non ci realizziamo e la logica nella quale Dio vuole che noi entriamo è quella del dono gratuito dell'amore incondizionato anche al nemico anche a chi ci ha fatto del male noi facciamo fatica a donare gratuitamente ma facciamo fatica anche a lasciarci amare gratuitamente perché la nostra logica è quella dello scambio e difatti quando noi accettiamo un regalo ci chiediamo subito e adesso come mi sdebito del dono che mi è stato fatto perché vogliamo subito pareggiare i conti questa è la nostra logica invece il regalo è stato fatto proprio per creare questo squilibrio che deve rimanere se uno mi ha fatto un regalo che costa 100 euro io lo pago tutta la logica del regalo va persa invece è proprio questo squilibrio che richiede uno scambio di amore noi lo sappiamo facciamo l'esempio della famiglia dove si realizza questa logica del dono gratuito tra fratelli in famiglia i servizi sono svolti senza chiedere che vengano pagati perché lì è la logica dell'amore quello che regola i rapporti e notiamo anche che quando uno offre il proprio servizio d'amore non necessariamente riceve un cambio di amore immediato questo amore tante volte si manifesta su altri per esempio il dono che fanno i genitori ai figli il dono della vita il dono del servizio che loro fanno perché i figli possano crescere non necessariamente viene compensato da un ricambio poi dei figli figli ma questa logica dell'amore però si manifesta da parte dei figli in un dono di amore che loro fanno a loro volta educando facendo crescere dei figli ma noi questa logica dell'amore questa dinamica la vediamo anche in esempi molto semplici se uno mi cede il passo quando sono in macchina io sono grato perché magari era già un po' di tempo che stavo aspettando che qualcuno mi lasciasse entrare sulla strada e sono grato a questo gesto simpatico che mi è stato fatto che cosa accade subito dopo noi siamo fatti bene sentiamo il bisogno di fare anche noi qualcosa di gratuito non nei confronti di chi ci ha lasciato entrare sulla strada ma nei confronti di qualcun altro ecco la logica nuova che Dio ha voluto introdurre nel mondo non la logica dello scambio ma la logica dell'amore gratuito chi accetta questa logica entra nella dinamica dell'amore di Dio che ci è stato rivelato da Gesù in Gesù questo amore è stato totale incondizionato noi se vogliamo entrare in questo rapporto di amore con Cristo anche noi dobbiamo entrare nella logica di un amore senza condizioni Gesù ha detto a Pietro se non ti lasci lavare se io non ti laverò i piedi non è Pietro vorrebbe essere lui a donare la vita per Gesù ma qui avviene il rovescio è Gesù che ha bisogno di donare la vita altrimenti non inizia il regno nuovo continuano i regni antichi i regni delle belve Pietro reagisce dicendo si lavami allora anche il capo e le mani non ha capito quello che Gesù sta dicendo lui pensa ancora alle purificazioni rituali e Gesù gli dice chi ha fatto il bagno e si riferisce chi è entrato nell'acqua nuova l'acqua di vita che io sono venuto a portare nel mondo non ha più bisogno di nessuna purificazione e voi siete puri siete già stati purificati dalla parola che io vi ho annunciato ma uno di voi non è stato purificato di nuovo il richiamo a Giuda che lo stava per consegnare eccolo il gesto sul quale noi abbiamo meditato e dopo questa reazione di Pietro viene la lezione di vita che Gesù vuole dare Gesù vuole far comprendere molto bene ciò che ha fatto e allora ascoltiamo insieme che cosa dice poi ai discepoli quando ebbe lavato loro i piedi riprese le sue vesti sedette di nuovo e disse loro capite quello che ho fatto per voi voi mi chiamate il maestro e il signore e dite bene perché lo sono se dunque io il signore e il maestro ho lavato i piedi a voi anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri vi ho dato un esempio infatti perché anche voi facciate come io ho fatto a voi dopo la descrizione del gesto compiuto da Gesù della lavanda dei piedi con la reazione di Pietro l'evangelista continua la descrizione dei gesti compiuti da Gesù si rimette le vesti si rimette la tunica poi si adagia di nuovo a mensa e dopo essersi adagiato si rivolge ai discepoli e chiede avete capito ciò che io vi ho fatto non è stato un gesto tradizionale compiuto all'inizio della cena come erano soliti fare quello di lavare i piedi no è stato durante la cena che Gesù ha compiuto questo gesto profetico sul quale vuole che i discepoli riflettano e colgano il significato un significato che è decisivo perché capovolge l'immagine di Dio e capovolge l'immagine dell'uomo grande l'uomo riuscito è per questo che Gesù chiede ai discepoli ma avete capito ciò che io ho fatto si noti che Gesù quando si rimette le vesti non si toglie il grembiule l'evangelista ha notato tutti i dettagli e il fatto che non dica che Gesù si è tolto il grembiule è significativo perché il grembiule è il simbolo del servizio all'umanità che Gesù continuerà a svolgere sempre è la sua divisa la divisa di Dio quella del servizio e poi inizia a dare la lezione voi mi chiamate maestro e signore ed è vero io lo sono come ho fatto io dovete fare anche voi è l'interpretazione morale Pietro è colui che è il primo fra i discepoli ed è è anche colui che ha reagito più degli altri di fronte a questa immagine di Dio nuova sconvolgente e quello che lo preoccupa anche è quello dell'immagine di uomo e se l'uomo deve assomigliare a Dio per essere grande deve essere come Gesù il servo colui che è sempre disposto ad amare in un modo incondizionato la lavanda dei piedi non è un gesto di umiltà compiuto da Gesù dobbiamo stare attenti a non minimizzare questo gesto come se Gesù avesse compiuto un'azione una volta per tutte e poi finita lì chiusa in questo momento no e quella è la presentazione della sua identità è la presentazione dell'identità di Dio che non cambierà mai questa è la natura di Dio la vera dignità poi dell'uomo sarà quella di riprodurre questo volto del Padre del Cielo che brilla sul volto di Gesù e quando noi sentiremo non nel Vangelo di Giovanni ma nei Vangeli Sinotici il racconto dell'Eucarestia quando Gesù dirà fate questo in memoria di me cioè per rendere presente me si riferisce anche a questo gesto di amore totale in cui devono entrare coloro che si vogliono lasciare coinvolgere da un rapporto sponsale con lui quel rapporto sponsale che è celebrato al banchetto eucaristico conclude la sua lezione Gesù dicendo sapendo queste cose sarete beati se le metterete in pratica è la beatitudine per essere beati beato è colui che ha avuto una vita riuscita colui al quale Dio fa i complimenti sei davvero mio figlio assomiglia a me perché hai rivelato e hai manifestato ai tuoi fratelli il mio amore tu sei beato non è per guadagnare si meriti per il paradiso che noi entriamo in questa dinamica di amore ma per essere coinvolti nell'amore del Padre del Cielo quell'amore che si è rivelato in pienezza in Gesù di Nazareth auguro a tutti una buona preparazione alla festa di Pasqua di Pasqua